Ellen, volevo chiederle se potevo andare via un po' prima del previsto. Non mi sento molto bene. Non glielo perdonerò mai. E non dovresti perdonarlo neanche tu. Ora è finita. Devo essere sola per vedere chiaro in me e in tutto quello che mi circonda. Non so se ricevi i miei messaggi. È passato un secolo. Sono ancora tua madre. Non sei desiderata qui. Vattene, per favore. Lasciaci in pace. Come può un figlio fare questo al proprio padre? Come può un figlio fare questo al proprio padre? Come può un figlio fare questo al proprio padre? Come può un figlio fare questo al proprio padre? Come può un figlio fare questo al proprio padre? Come può un figlio fare questo al proprio padre?